Ciao, tenete, guarda, attacchiamo gli spazi senza dormire, ragazzi dobbiamo giocare a calcio con palla a terra, mi raccomando di giocare palla a terra, non abbiamo paura di nessuno, è chiaro questo? Sì, palla a terra e giochiamo a calcio. Ma chi si è arrabbiato prima? Perché il faldo è al contrario, io non ti ho detto nulla in maniera corretta, io parlo in maniera corretta, non parlo mai con te. Mai, anche perché parleresti contro la tua categoria. Contro la mia carriera. Questa qua è la Francesco Viscido che si è classificata, quindi partita equilibrata, questa qui, questa è categoria E, mister 2005, sì. Si entra in campo Francesco Viscido in maglia, strisce verticali, giallo, blu contro i bianchi. La Real Poggio, Laino, Forino ancora tra i pali, Giacobelli, Ruggero, Sarnataro, Criscuolo e Tedesco. Piccolo, De Vito, Tornisciolo, De Chiara, Ciampa e Guarino con il numero 18. L'arbitro fa rispettare la linea del centrocampo, si abbracciano amici. Applauso, il fisco dell'arbitro. Forse c'è un minuto di raccoglimento? Un minuto di raccoglimento per? Mamma di un maldito. Applauso, il fisco dell'arbitro. L'applauso di tutto il campo e delle squadre. Mister, sempre 2-1-2, lo schieramento. Sarnataro, all'arbitro. Tedesco centro-destra, madra centro-destra. Francesco a sinistra e a minima presa. Quanti fanno la presa? Sarnataro, davanti alla difesa, base difensiva. Enzo, guarda che Sarnataro tende a spingere. Partiti, inizia prima la Francesco Viscido. Con questo tiro è la barata di Forino. Tedesco la tocca per la rimessa laterale. All'attacco la Francesco Viscido. Partiti ha sprombattuto, secondo tiro di poco al lato del portiere. Partita equilibrata, Viscido mi sembra, ha detto Mister Rilardi. Cross in mezzo, non è gol. Ha toccato la traversa, un cross con il sinistro. Forino per Criscuolo F. Sarnataro, palla in mezzo, lo stop di petto. Criscuolo per la punta. Laino, forse a braccio largo. Tornisciolo, Sarnataro, cambia fascia. Lo stop del 33, Ruggero. Chi è il 33? Ruggero, ok, ve l'ho letto bene. Laino, per Ruggero che di prima passa a Criscuolo. Sarnataro, evita l'11. Criscuolo, sono due 11. Sarnataro, piccolo e tornisciolo. Dai, 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 così, vabbè. Cominciamo a calciare pure ogni tanto. Enzo, Enzo, calciolo. Lo stanno, lo stanno, non si per calciare. Criscuolo, entra. Lei, lei, in avanti, dai, lei. Criscuolo, no, Criscuolo, che io scusa. Laino combatte per il possesso di Criscuolo. Criscuolo, la rete! 1 a 0. Predica calma Rocco e Lardi. 1 a 0, il gol di Criscuolo. No, Criscuolo, no, perché il genolai? Non ci sta. 1 a 0. Passaggio per piccolo. Di prima per Guarino. Tedesco anticipa, laterale per il giallo-blu. Lascia l'incarico del pallone a Ciampa, numero 7. Si avvicina a Tornisciuolo. Pallone in mezzo, Forino si abbassa. Si piega per prendere questo pallone. Tornisciuolo con la testa. Guarino anticipato da Tedesco. La rovesciata di Guarino. Laino, capitano. Avanza, laterale per i bianchi. Sarnataro. Laino. Criscuolo. Evita Tornisciuolo. Pallone a Ruggero, ancora Criscuolo. Col sinistro Guarino. Tornisciuolo. Laino per un attimo. Ancora Tornisciuolo supera il centro campo. Evita Tedesco con il tiro. Forino controlla, palla fuori, fondo. Pallone a Ruggero. Tedesco. Avanti per Ruggero. C'è Criscuolo che ha tagliato. Viene servito, ma Ciampa con il petto. Stoppa questo pallone. Tedesco lo lascia rimbalzare. Lo difende. Prestato da Guarino. Fondo. Forino batte. Guarda là, Mauro. Avua, vola qui. Ciampa, è tu. Tedesco. Alla alta. Sarnataro stoppa bene. Laino. Si allunga a Griscuolo. Ciampa. Con le mani. Alla e mezzo con la testa. Lascia sfidare. Ciampa. Laino col petto. Criscuolo. Stoppa col destro. Passa. Laino che riesce a prendere questo possesso. Combatte Laino. C'è fallo. C'è fallo. Va bene, va bene. Buona però la grinta di Capitan Laino. Il senso. Viene la patata. Tocca la Ciampa. Criscuolo. Non me la faccio mai. Viene. Al contrario. Batte Ciampa. C'è la distanza. Arbitro no. C'è la faccio. Si attende il fisco dell'arbitro. Ma esci. Anticipa Sarnataro il numero 11 piccolo. Laterale per il giallo-blu. Batte Ciampa con le mani. Pallone in mezzo. Smanaccia Forino. Sarnataro spazza via. Ruggero supera De Chiara. Ruggero settore di sinistra. Non è uscito. La scivolata di De Chiara. Calcio d'angolo. Buono il controllo di De Chiara. Pallone battuto da Criscuolo in scarpette verdi. In mezzo. Portiere. Controlla. E la spazza con le mani. De Vito. Forino. Tedesco. Laino. Sarnataro. Palla in avanti. Ciampa. Controlla. Si contrastano Criscuolo e Guarino. Ciampa. Palla in avanti. Laino. Ancora Laino. Coca-Cola. Doppia scivolata. Non c'è il rigore su Ruggero. Laino. Il tiro di Laino dopo lo stop. Buona coordinazione. Buona l'idea. Buona la giocata. Pallone però alto. Ciampa. Pallone per piccolo. Laino combatte e recupera questo pallone. Criscuolo. Cambia fascia di prima. Guarino però controlla col sinistro. Tedesco. Tedesco. Tornisciolo però lo anticipava. E ha tirato. Fuori col sinistro. Tedesco. Sarnataro. Ruggero. De Chiara viene anticipato. Ciampa in avanti. Rimessa laterale. Il pallone è toccato la rete di recinzione. Rimessa laterale. Criscuolo di prima. Laino non ci arriva. C'è la Viscido che controlla con il portiere che di prima passa una serie di passaggi a voto. Tornisciolo. Il pallone non è uscito. Buona la scivolata di Tedesco. Buona anche l'avanzata di Tornisciolo. è lì. De Chiara. Il tacco di Laino. Ancora Laino che controlla questo pallone. Può partire il contropiede. Ciampa però. Fa buona guardia. De Chiara. Laino però attacca. Tornisciolo a gancia. La serie di rimpalli. Rimessa laterale. C'è Laino a terra lì. Preso un calcio involontario. Misteri Lardi lo va a soccorrere. È tutto ok. Laino si rialza. Misteri Lardi si va ad accertare delle condizioni del suo capitano. Perchè spinta tra Tornisciolo e Criscuolo. Ancora Criscuolo. Rivesco con le mani. Laino. Stoppa di petto. Tornisciolo però. Fa buona guardia. Può avanzare Guarino. Tre contro quattro. Sarnataro. La blocca. La stoppa. Chiedo scusa. Calcio d'angolo. Per la Francesco Viscido. In mezzo due. In mezzo con la testa Sarnataro. Calcio d'angolo. Sarnataro con la testa. Tornisciolo il buon tiro di sinistro. Laino. Cerca di spazzare ma Tornisciolo c'è. Ancora su questo pallone. La parata sul tiro di Tornisciolo di Fiorino. Che passa a Criscuolo. Tocca laterale. Furi. Ciampa. Tornisciolo. Dechiara con l'esterno. Fiorino si allunga. La tocca. Tedesco con la testa. Guarino. Ancora Tedesco con la testa. Ancora Guarino. La soppa la mette a terra. Laino. Esce Ruggero. Entra il piccolo Giacobelli con il loro numero 54. Laino. Numero 51. Passa Tedesco. Ma Tedesco controlla male. Però recupera il pallone. Tedesco avanza. Laterale per i bianchi. Tornisciolo. C'è il fallo di Tedesco. Vientra. Vientra. Si ribatte qui. Guarino forse con una mano tornisciolo ma è involontario. Il tiro. Palla fuori. Rimessa dal fondo. Criscuolo. Un po' beccato dai difensori. La Francesco Viscito. Buono il controllo di Guarino. Criscuolo. Il pallone è già uscito. Sullo tocco di Sarnataro. Per cui rimessa laterale a favore dei giallo-blu. Guarino col sinistro. La buona coordinazione. Para. Paraforino. Il pallone è già uscito. il tiro di sarnataro c'è un elicottero che mi vola in testa ciampa eccolo qua non so se si vede criscuolo malone uscito ciampa laeno con trasta guarino tornisciolo supera tedesco il tiro di tornisciolo palla fuori forino per la rimessa dal fondo giacobelli anticipato da guarino de chiara spinto una via criscuolo ma c'è comunque calcio d'angolo per la real poggio batte proprio criscuolo in mezzo giacobelli de chiara con la testa batte tedesco con le mani laeno lo stop di petto il tiro al volo giacobelli buona la parata di De Vito laeno su tutti i palloni anticipa il suo diretto avversario ma piccolo comunque riesce a guadagnare il possesso del pallone chiedo scusa guarino tedesco si immola ancora tedesco c'è calcio di posizione per l'area al poggio tedesco giacobelli consente a tedesco di recuperare il pallone dopo questa rimessa laterale sbagliata una serie di rimpalli il portiere non fa uscire il pallone in calcio d'angolo tedesco passa a giacobelli ma anticipa guarino guarino palla in mezzo fuori fondo per l'area al poggio Laino giacobelli buono il passaggio per Laino passaggio di torno per giacobelli che si allungano la fa uscire parata di De Vito finora attenta alla partita di De Vito portiere dei giallo-blu della viscina Laino forse a braccio alzato infatti torcio di punizione per la Francesco Viscido batte Tornisciolo Tornisciolo pallone e mezzo non riesce ad agganciare Piccolo suo collega con il numero 11 Giacobelli il numero 11 buono il passaggio di Criscolo per Giacobelli Criscolo la devia di testa bellissima azione tra Criscolo e Giacobelli due piccoli Criscolo pallone e mezzo di testa Sarnataro palla che va fuori ciampa pallone in avanti con la testa Sarnataro Criscolo la tocca calcio di permessa laterale De Chiara con le mani di testa Sarnataro per Criscolo che stoppa male Tornisciolo tedesco Giacobelli ancora Giacobelli non c'è fallo laterale per il giallo blu palla controllata dalla difesa del Real Poggio Sarnataro Evita credo sia piccolo quello lì Laino la stoppa e la lascia andare avanti laterale Criscolo Laino ancora per Criscolo pallone e mezzo Giacobelli salta ma il pallone è troppo alto per lui Ciampa Giacobelli la lunga di testa Laino gli stironi avanti Criscolo il controllo sbagliato della difesa del Real Poggio Trocco Elardi si arrabbia con Criscolo poteva chiuso per l'interruzione abbiamo cambiato prontamente la batteria ancora 1-0 il punteggio calcio di punizione su questo controllo con il braccio di Tedesco Guarino Sarnataro anticipa piccolo c'è Tornisciolo che evita Ruggero Laino Forino la parata Laino spazza fuori questo pericolo quindi calcio di quindi rimessa laterale Guarino con le mani di testa la sfiora Ruggero Forino alla lunga di Forino Ciampa però c'è controlla di testa ma Giacobelli lo anticipa Giacobelli stiro la parata buona di Tevito Laino con la testa all'indietro per Sarnataro Giacobelli controlla bene col petto il colpo di testa Ciampa Ruggero si immola viene colpito alla testa si riasa tutto a posto per Ruggero un po' d'acqua Ciampa rinvio lungo di testa Sarnataro De Chiara buono il passaggio rasoterra ma Laino anticipa in rimessa laterale Guarino che passa adesso con le mani per Tornisciolo gli rimanda il pallone De Chiara Guarino 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 non è De Chiara Guarino bellissimo bellissimo il tiro Laino si fa i lacci ci fermiamo un po' la rimessa dal fondo di Forino lunga dopo un tiro fuori Giacobelli buono lo stop con il stacco buono anche la parata di Dito buon portiere questo della Viscido dicevo fondo di Forino dopo un tiro fuori della Viscido piccolo anticipa Sarnataro non la fa uscire guadagna anche la rimessa dal fondo buona la difesa di Sarnataro attento finora in fase difensiva preparato su molti degli anticipi nel suo settore di gioco Forino per Sarnataro la stoppa Laino fine primo tempo andiamo a riunirci con Misteri Lardi e gli altri alziamo di più la destra non bussiamo qua Giacobelli ho detto tante volte o una dici sei veloce se fai la finta di anticiparla e poi te ne vado quello non sa cosa fare e vengo sei veloce sei il doppio di roccia vai non mi dobbiamo trattare vizzo almeno è dura la vita ma non è un volto proprio adesso voglio la semifinale vieni capito vieni 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 questo è sui quarti fine primo tempo mettiamo in pausa la telecamera palla lunga di Laino per Tedesco che non riesce a prendere questo possesso del pallone all'inizio del secondo tempo Ciampa la lascia scorrere per guadagnare questa rimessa laterale ancora 1 a 0 il punteggio per ambo le squadre Ruggero la rete 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 di Ruggero di Giacobelli che ha segnato mister Giacobelli ma diamo anche merito a Ruggero che ha rubacchiato quel pallone dopo la scivolata del suo marcatore Giacobelli il tiro di Sarnataro che gol di Sarnataro dopo il 2 a 0 c'è subito la terza marcatura vediamo che succede che gol di Sarnataro che tiraccio mister Sarnataro è un ragazzo che promette bene a Bella Tecchi e dodato di Muntini a Poi ha anticipato molti nel suo settore diciamo che quest'anno è il primo anno che gioca a calcio quindi comunque sta rispondendo bene c'è un time out della Francesco Viscido ne approfittano anche i bianchi dell'area quindi è il top e non le mosche Farino e io diciamo passate il borraccio qua 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 andiamo fuori in una farina vieni a casa eh sì oh senza bocca qui c'è qui c'è qui c'è qui c'è qui c'è ora facciamo un bagno per un cronista ce lo dico da adesso che stiamo stupendo ah sai che lo sate se fate le camere no telecamere c'è la Francesco ah ok qui c'è la sua qui c'è la sua qui c'è la sua qui c'è la sua la camera me l'ha presa io oggi oggi io mi faccio fu bagno eh mi sa faccio qui c'è qui c'è la sua qui c'è la sua qui c'è la sua Francesco Francesco mi raccomando Francesco stretto senza problema Guarino palafoglio laterale per i bianchi ah no per il giallo l'Aino la stoppa pala lunga di Sarnataro Giacobelli ci può arrivare Giacobelli De Vito anticipa tutti che gol di Tornisciolo buono buona l'area di Tornisciolo anticipa i suoi difensori 3 a 1 3 a 1 ritornisciolo che fu che brucia ecco i i suoi difensori e segna il 3 a 1 parziale partita bellissima e ricca di gol stamattina domani costume fa troppo caldo con il maio nella camicia domani proprio maniche corte bermuda e sandali e crema e crema abbronzante laterale Laino Laino ancora su Guarino contrastato Tornisciolo Criscuolo Sarnataro pallavanti Ciampa Tornisciolo al centrocampo Laino lo contrasta ancora Laino ma Tornisciolo va via bene Guarino Guarino evita Criscuolo ancora Guarino Laino un calcione Laino duro su Guarino tutto a posto tutto a posto una mano dai 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 a posto che è tutto pilotato non le fa più non le fa più non le fa più siamo arrivati a due e qua il fatto che è stato a Mazzanataro che è stato andiamo a seguirlo è togliato 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 Tiro alto di piccolo Forino Tedesco Di prima per Giacobelli Laino No non è Laino è Ruggero Mi ricordo da Tornisciolo Una fruria Tornisciolo Giacobelli lo mette a terra Finte Tornisciolo la parata Di Forino a terra Commette fallo De Chiara c'è fallo su Tedesco Basta è Forino Vuole lancio lungo Passa a Credo sia Ruggero Ma è il passaggio Forino Così come sbaglia il tiro Guarino Forino Lunga Cercare gli attaccanti di testa Però piccolo il numero 11 Anticipa Triscuolo Rimessa laterale San Nataro Guarino Ruggero per un momento Guarino contro Ruggero Tedesco Anticipa e va a finire Il pallone fuori Per la rimessa laterale Riscuolo Triscuolo trattiene Guarino C'è fallo Calcio di punizione Sarnataro Sarnataro Barriera composta da Giacobelli e Sarnataro Mucchietto in area De Chiara con Ruggero Tedesco e Tornisciolo Urla Forino Si fa sentire con la sua difesa Punizia in seconda Battuta Murato Criscuolo per il contropiede Pallone è uscito Laterale per il giallo-blu Tornisciolo Tedesco con la testa Anticipato Giacobelli De Chiara Mette a terra Ruggero Buono questo controllo De Chiara Tornisciolo Ruggero Murato Giacobelli Cambia fascia Di testa Criscuolo Sarnataro non ci arriva Laterale Tornisciolo Stoppa bene In mezzo a tre Ruggero Anticipa tutti Ciampa Spara fuori Laterale Per il giallo-blu Ancora Criscuolo Palla che va fuori Fase d'attacco Per la Francesco Viscido Sarnataro Spazza fuori Ciampa Anticipa Giacobelli Giacobelli però non si arrende Ciampa Sarnataro Tedesco capisce tutto Giacobelli Sbaglia lo stop Ma continua a correre Si è fatto male Un bimbo Si è fatto male Tornisciolo Stoppiamo la telecamera Tornisciolo Recupera da un piccolo taglietto Alla strezza del labbro Tedesco Basta Giacobelli Basta Giacobelli Laterale per il giallo-blu Giacobelli Giacobelli rovescia Ciampa controlla Criscuolo toccata da piccolo Calcio d'angolo Criscuolo Criscuolo Forse un braccio alto Giacobelli Tornisciolo Tornisciolo Basta di posizione per la Francesco Viscini Piccolo per Guarino Pallone non uscito Tedesco Passaggio a Giacobelli Però Giacobelli non ci arriva Rimessa laterale Quindi Laino Anticipa Forse con un braccio Calcio di punizione Quindi piccolo Questo calcio di punizione Piccolo il tiro Che parabola di piccolo Che gol di piccolo Grandissimo calcio di punizione Che gol di piccolo La pressione è bellissima Calcio dà benissimo 3 a 2 Il parziale Quando siamo circa Credo Nella Metà del secondo tempo 3 a 2 Tra Real Poggio E Francesco Viscido Real Poggio In vantaggio Di 3 a 0 All'inizio del secondo tempo Adesso si rischia Anche il pari Forino Chiama i compagni E li invita a salire Lancia lungo Ciampa Di testa Tornuciolo Giacobelli Anticipa Guarino Laino combatte Guarino Va via Guarino va via Anche al tedesco Guarino Palla in mezzo Forino la tocca Laterale Palla in mezzo Guarino Istituto di Guarino Il palo E la rete Del numero 17 Per il 3 a 3 Della Francesco Viscido Dopo il 3 a 0 Dell'Areal Poggio 3 a 3 a 3 a 3 a 3 Oh Oh la che? 3 a 0 Che è successo? Secondo me Stanno parlando Troppo caldo Troppo caldo Troppo caldo Giacobelli dentro Ciampa Giacobelli toccato non intende rincorrere il pallone adesso la Francesco Viscido controlla questo possesso eccolo qui rinvio lungo di testa Laino Giacobelli corre ma non ci arriva esce Giacobelli entra Ruggero con le mani piccolo Laino Torrucciolo Sarnataro non commette fallo laterale per il giallo-blu Sarnataro la sfiora Guarino recupera questo possesso il tiro di Guarino la tocca Forino calcio d'angolo Sarnataro anticipa tutti forse anche il suo portiere piccolo evita Sarnataro in mezzo Tedesco non spazza bene Forino esce Sarnataro Sarnataro spazza Criscuolo Criscuolo avanza Criscuolo Marino Marino in testa la difesa del Real Poggio spazza piccolo supera il centrocampo con il passaggio per De Chiara Sarnataro si allunga e la lancia in rimessa laterale Tornucciolo la rovesciata di Tornucciolo laterale uscita Tedesco Tedesco recupera tantissimo tempo Rocco Elardi chiama time out ragazzi ragazzi andiamo a seguire oh ma che ci stanno facendo per la paura farino ci stanno facendo per la paura si calciamo a porta cortina non vai tu angoci lì no senza paura anticipa oh avete fatto primo tempo fattissimo dai oh dai dai ok ok 3 a 3 cambia di carica vedi ezzo tu ammazzato buona tappo chiaro oh buon amico oh qui c'è non ce la fai più quindi gioca sul subito e recupera la paura mettigliela subito non ce la fai più aggiannanzare e stangare mettila su ecco tu hai detto il tuo bottino tu hai detto hai detto ma non la roba 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 no e poi devi vincere 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 uno che bella attendo spazio attendo spazio attendo spazio attendo spazio vincere 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 palla lunga Ruggero la stoppa male torni sciolo anticipa Laino torni sciolo palla raso terra Ruggero Ruggero hai detto ha cominciato ma loro Ruggero eh Ruggero Sarnataro avanza Laino la stoppa anticipato Sarnataro ancora il passaggio per Laino Laino il tiro Laino guarda là ancora laterale per i bianchi della Real Coggi Sarnataro piccolo la spara fuori non è uscita tornusciolo forino esce urla e blocca questo pallone Sarnataro sale Sarnataro la scivolata palla per il giallo blu della viscido è bianca Laino il tiro Ciampa Forino Francesco sul portiere che cosa sul portiere Forino il lancio lungo non c'è fallo di mano piccolo tedesco tornusciolo entra in aria il tiro di tornusciolo fuori piccolo Forino Forino lancio lungo Ruggero non c'è arriva Ciampa con le mani tornusciolo tedesco con la testa Guarino manca poco Guarino contrastato bene da Laino non commette fallo il passaggio per Criscolo il passaggio per Ruggero con i piedi di Vito una grande parata lascia l'incarico della battuta a tedesco balla in mezzo tedesco non la lascia uscire balla fuori tedesco controlla palla per i bianchi forse l'ultima azione per l'area al poggio è tutto nei piedi di Forino Sarnataro lancio perfetto di Sarnataro balla che arriva in qualche modo a Ruggero che passa bene indietro a tedesco Sarnataro sbaglia lo stop Sarnataro però recupera Ruggero la tocca però peccato il pallone è uscito si gioca ancora piccolo guarino tedesco palla uscita per l'area al poggio tedesco con le mani Ruggero sbaglia il controllo Ciampa partita finita cacci di rigore andiamo dal portiere cacci di rigore fammi fare i rigori andiamo a seguire andiamo a seguire questi calci di rigore battono prima quelli del Francesco Viscido ci mettiamo centralmente Forino guarino dovrebbe battere con il sinistro guarino contro Forino no 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 ragazzi i portieri ti cominciano prima no chi cominciano prima ma ti cominciano prima mi fa capitare troppo dai ti tira perci prima ti tira per primo ti tira per primo testa testa ti tira per primo mi hai messo una piccola batte Sarnataro mi hai messo quella che sta dentro un momento di confusione comunque forse si comincia Guaino contro Forino il tiro Forino lascia scorrere sotto le gambe per l'1-0 dei Viscido Sarnataro si posiziona il pallone Bacia indica il cielo Sarnataro la parata di De Vito è l'isperazione di Sarnataro dai Forino la pari questa dai 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 ciampa contro Forino Forino la parata di Forino Criscuolo contro De Vito 1-0 per la Francesco Viscido Criscuolo può pareggiare Conti e lo fa adesso con Criscuolo 1-1 bravo Forino Saltella punto Tornusciuolo Forino resta fermo Tornusciuolo lato sinistro del portiere lato destro del portiere Ruggero contro De Vito Ruggero la parata di De Vito De Chiara contro Forino numero 17 De Chiara la rincorsa la parata di Forino Rigore centrale di De Chiara batte Tedesco Tedesco contro De Vito la rincorsa di Tedesco il tiro di Tedesco alla rete De Vito però l'ha sferata qui piccolo contro Forino piccolo avanza la parata di Forino che è susta Capitano Laino Laino il palo di Capitano Laino vai Capitano grande rigore Portiere contro portiere batte De Vito De Vito De Vito De Vito la rincorsa a lunghissima di De Vito De Vito contro Forino tutta la squadra a urlare la parata del portiere e ora batte Forino 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 il tiro la parata di De Vito la vinto andiamo su si continua ad oltranza si ricominciano e altra ma che ti allarga tranquilli guarda guarda non guardano sciupi e zapparà e basta Guarino contro Forino Guarino indovina l'angolo e segna Sarnataro contro De Vito Sarnataro indovina l'angolo la rete di Sarnataro si arrabbia tutta la Francesco Vicio non ho capito il perché Forino stai guardando troppo ci siamo ecco per l'unità la campanella ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo contro Forino Forino resta fermo adesso se la real Poggio segna ha vinto e passa il turno batte Criscuolo De Vito Sastella Contro Criscuolo Criscuolo sbaglia l'angolo Tornusciolo contro Forino Forino si affida alla croce Tornusciolo sbaglia l'angolo troppo angolato Ruggero ha tra i piedi ancora il match point Ruggero palla alta De Chiara ancora Forino che si è a segno della croce De Chiara Saltella la breve rincorsa Forino la mette alta questo cucchiaio di De Chiara tira Giacobelli De Vito ancora tra i pali bacia terra Giacobelli bacia centrale di Giacobelli De Vito para gran lavoro dei portieri oggi piccolo contro Forino piccolo andò in all'angolo e segna la realpoggio deve segnare affinché possa restare in partita tutto tra i piedi di Tedesco Tedesco contro De Vito Tedesco balla fuori va avanti la Francesco Viscido ecco vediamo tutti che esultano eccoli qui tornusciolo De Chiara Ciampa De Vito autore di grandissimi parate e la scorso d'azione medico e della realpoggio bravi tutti andiamo subito mister una battuta veloce no comment però insomma partita bellissima complimenti a entrambi i portieri andiamo a l'altro campo